ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi faremo un video tag sono stata taggata almeno un mese fa più di un mese fa ma mi sono dimenticata a girare il video per il tag sono stata taggata da artcloth troverete il suo link in info box perché anche l'inventore di questo tag e lo ringrazio tanto per avermi taggata solo che mi sono dimenticata vi chiedo scusa a fare il video e così lo sto facendo adesso cioè alla fine meglio tardi che mai ma comunque andiamo avanti allora queste sono le sei domande perché poi la settima è di taggare le persone le troverete anche giù in info box mette a fuoco ok e niente cominciamo allora cominciamo con le domande da quanto tempo utilizzi materiali creativi praticamente da sempre c'è anche utilizzavo quando ero più piccola il das mi passava un po il tempo poi vedendo art attack combinavo delle schifezze mostruose comunque già con giovanni nucia già mi trovavo bene perché come avete visto nei video precedenti ho fatto anche un video creativo in cui ho fatto il mio portapenne che questo di qua il mio portapenne quello verde quello verde blu dai metti a fuoco eccolo la che ho fatto grazie a giovanni mucciaccia comunque è da sempre che io ti la utilizzo materiali creativi anche disegnando colorando insomma ho sempre espresso la mia creatività numero due qual è il materiale con cui preferisci lavorare maggiormente allora per ora perché io sono a periodi il materiale con cui preferisco creare di più e la resina numero 3 in che modo la creatività ha influito sulla tua vita beh sinceramente non saprei rispondere perché è una vita che io creo disegno coloro l'unica cosa forse di c'è passo nei camion l'unica cosa forse diverso che adesso mi sono creata un mio spazio creativo e la creatività mi ha portato ad aprire questo canale youtube youtube numero 4 vorresti trasformare questa passione in un lavoro già ho fatto questa esperienza nel senso che ho già aperto il mio tra virgolette sempre negozietto su facebook in cui vendo le mie creazioni se vi interessa vi lascio il link sempre in info box io creo molte cose anche in ceramica tipo questa guardate che carino è un fiore di cilieggio e tipo faccio anche segnaposti tutte queste cose così per me questo già è un piccolo lavoro numero 5 temi giudizio delle persone circa questa tua passione sinceramente lo dico con tutto il cuore non me ne frega la propria niente delle persone sono un tipo che me ne frego assolutamente di tutto quello che pensa la gente e faccio solo ed esclusivamente quello che piace a me sono stata molto criticata nel senso che essendo che vengo da una famiglia abbastanza benestante mi sono sentita dire a ma non c'è bisogno che tu fai questo lavoro a che ti serve che tu fai queste queste creazioni bla 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 ma a me non me ne frega assolutamente perché questa è una cosa che a me piace e non mi interessa di nessuno sono fatta così sono un tipo molto me ne freghista poi cos'è per te la creatività ecco per me la mia la creatività è un modo per esprimermi se nel senso magari mi non so magari non so esprimermi a parole magari mi esprimo con la creatività perché non saprei la creatività è un qualcosa che dentro di me perciò devo uscirlo fuori e lo esco fuori in questo modo magari anche tipo unendo varie cose come faccio un esempio banale questo è un mix di creatività perché alla fine questo questo figli non aveva bisogno di essere messo qui dentro per essere bello era già bello a modo suo però quando insomma ho pensato a un acqua abbiamo pensato perché l'abbiamo pensato insieme ad ali quando abbiamo pensato a questo micro acquario filli io micro lei non so come lo vorrebbe fare subito mi è venuta in mente di mettere le rocce di mettere dentro queste specie di brillantini per dare l'effetto dell'acqua insomma la mia creatività ha preso subito il sopravvento e magari non c'era nemmeno il bisogno perché già il figlio era bello così da sé ma ho espresso la mia creatività in questo modo oppure anche non saprei qua tipo questo dove non è questo un colore normale ma qui ho mischiato il colore acrilico bianco insieme agli ombretti per far riuscire questo colore e questa è anche creatività perché mi sono auto costruita un colore da me insomma la creatività fa parte di me numero 7 tag a tre persone allora io vorrei taggare alicrafti come sempre mc jewels creazioni che saluto anche ciao miriam poi vorrei taggare anche al all beautiful colors alessia insomma vorrei taggare loro tre e vediamo cosa ne esce fuori vi ricordo che sono stata taggata dark cloud e che questo tag è di sua in pensione lo ringrazio tantissimo per avermi taggata e mi scuso ancora per aver fatto così tardi il video ti chiedo scusa e niente spero che questo video vi sia piaciuto soprattutto che vi sia stato utile se volete fate anche voi questo tag e niente noi ci rivediamo nel prossimo video ciao